Quando è buonasera un chiasso? Quando mi porti i soldi? Mamma mia! Domani lavori, no? Certo che il lavoro serve il cambio, eh? Io vengo la mattina presto, eh? Sì, vengo la mattina presto, porta una piotta, se no vi sto cazzo qui. Va bene, va bene. Quella priorità serve pure, eh? Pure, nient'altro? Va pure il certificato, che ne so? No, 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 perché domani quando lavoro con le Paolo, con lo sportello serve, capito? Ma domani che cazzo del giorno è, oh? Eh, martedì. Che giorno è? 9? 9, sì. Vabbè, le salvi, io ci non parlo. No, non può essere, non possiamo stare sui anni, da due giorni, non si può fare nulla, va senza proiezione, è stato timidato. Perché poi è un esagero, no, vai allo scopo, che lo possiamo, se ti fanno male, non ti fai davvero con quello di sotto. Pronto, buonasera, ho chiamato te. Sì, ciao, sì, ti avevo chiamato perché è meglio che ci vediamo non al municipio domani, per darmi i fogli, eh? Vabbè, ci vediamo, che ne so, al bar, prima delle 8, lì al bar. Qua ormai, qua ormai ci contano pure quanti peli abbiamo sotto le ascelle a noi. Non so cosa ci è successo a sto municipio, quindi me la tengo ancora io, provo a vedere cosa riesco a fare. Quindi adesso o queste pratiche le devo far scrivere a qualcun altro, le infilo al protocollo, da qualche parte, però devo farmele scrivere da qualcuno, non posso compilarle io perché sennò la mia scrittura si riconosce, capito? Grazie. Grazie.